A crescere la propria professionalità, aprendo davanti a sé la strada di un avanzamento di carriera. Questa è la possibilità che viene offerta ai dipendenti della pubblica amministrazione dall'Università degli Studi del Molise, che ha stabilito per loro tariffe agevolate. Per coloro i quali si iscriveranno ai corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico, il costo da sostenere sarà di 500 euro per il contributo annuale, più 140 per la tassa regionale e 16 euro di imposta di bollo. La scadenza è tra un mese, il 28 febbraio, e sul sito Unimol è presente un form con cui gli interessati potranno richiedere ulteriori informazioni. Questa misura è il frutto di un accordo tra la funzione pubblica e l'Università, ma soprattutto è la conseguenza del PNRR che individua proprio nelle persone il motore del cambiamento. e dell'innovazione. Il rettore Unimol, Luca Brunese, ha sottolineato l'importanza di un progetto formativo di questo livello. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise ha approvato il protocollo d'intesa proposto dal Ministro Brunetta a proposito della nuova possibilità della formazione del personale della pubblica amministrazione all'Università. Sarà possibile iscriversi all'anno accademico, quindi 21-22, proprio in questo periodo. alle carriere, alle professionalità dei componenti della pubblica amministrazione, sarà riconosciuto in qualche modo una parte del percorso formativo che consentirà loro quindi di partire in maniera adeguata. C'è un'importante riduzione sulla tassa di iscrizione che ci è sembrato un motivo opportuno per favorire questa opportunità che il Ministro Brunetta ci ha messo a disposizione.